Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Come state? Benvenuti, sono Doina, per chi mi conoscesse e per chi non mi conoscesse, buongiorno, sono Doina. Allora, oggi facciamo un video sempre connesso alla moda sostenibile, fast fashion, tutte quelle cose là, insomma, no? Nell'ultimo video vi parlavo dei miei errori da quando mi sono avvicinata alla moda sostenibile, più che altro alla moda usata, quindi io compro quasi tutto, se possibile, usato, tra cui i vestiti, ho comprato ben pochi vestiti nuovi, ho comprato sempre usato negli ultimi tre anni ed è una cosa che mi rende molto felice, cioè mi rende molto felice poterlo fare, poter avere l'accessibilità a queste cose, quindi sì. Oggi invece parliamo di una delle regole che si gira nel mondo della sostenibilità, che è quella dei 30 wears, che è tradotto è 30 volte indossato, 30 indossi, si dice indossi, no? Si dice così, indossature, eh? Italiano, not found, ok, perfetto. Allora, quindi si tratta di, quando si compra una cosa, per minimizzare il suo impatto, si dovrebbe indossare almeno 30 volte. C'è anche un'applicazione che a quanto pare puoi scaricare e puoi vedere se è un capo che hai comprato, l'hai effettivamente indossato 30 volte. Che qualcuno potrebbe dire, vabbè, 30 volte cosa vuoi che sia, però in realtà non è così poco come sembra, perché alle volte abbiamo una cosa, che abbiamo l'impressione che la indosseremo tantissimo, o che l'abbiamo indossata tantissimo, poi però quando inizi a contare sulle ditte delle mani effettivamente quante volte hai indossato quel capo, non arrivi molto spesso a 30 anni, anche se quel capo magari ce l'hai da anni e anni. La stessa cosa per esempio vale per le borse in tela, no? A un certo punto la gente diceva, eh, perché per essere sostenibile devi avere la tua borsa in tela, per non comprare i borsettini di plastica, tutto quel che vuoi. Giustissimo, però allo stesso tempo bisogna capire se compri una borsa in tela, in cotone, comunque ha avuto il suo bell'impatto, quindi sarebbe meglio che la usassi tutta la tua vita, ecco, per minimizzare l'impatto. Ecco, stessa cosa vale per i vestiti, che siano usati, che siano fast fashion, soprattutto ovviamente se si compra fast fashion ancora di più si dovrebbe applicare questa regola, non dico che se si compri usato allora sei esonerato da questa cosa, però comunque quando compri usato hai già meno impatto sull'ambiente rispetto al comprare una cosa da un brand fast fashion. A proposito di questo, io vi voglio consigliare tantissimo questo libro, che si chiama The Conscious Closet. Non so se c'è la versione italiana di questo libro, perché io l'ho letto giustamente in inglese. Questa autrice ha scritto un altro libro che si chiama Overdressed, che quello è stato tradotto in italiano, non ricordo il titolo, però se cercate il suo nome, Elizabeth L. Klein, potete trovarlo. Anche quello l'ho letto, quello è molto bello, ma questo mi è piaciuto molto molto di più, perché se vi interessa approcciarvi alla moda sostenibile, comunque anche alle cose di fast fashion, ai danni della fast fashion, alle cose che possiamo fare meglio, questo libro, a mio parere, è bellissimo. Io di fast fashion avevo visto solo il documentario, avevo letto qualche articolo, ma non avevo mai effettivamente letto dei libri. Adesso, ultimamente, ho letto questo, l'altro suo che ha scritto, e altri due di altri autori, che sono stati anche quelli belli, mi sono piaciuti tantissimo. Questo però è stato veramente il mio preferito, perché è diviso in sezioni, e ogni sezione ti dà dei consigli, ti parla delle problematiche, tutto quanto è pazzesco. L'ho letto in ebook, l'avevo anche comprato in ebook, ma mi era piaciuto così tanto che ho detto, vorrei averlo a cartaccio, sempre a portata di mano, per poterlo sfogliare ogni tanto quando mi serve un'informazione, ecco. Quindi ve lo consiglio. In questo libro non si parla dei 30 words, forse sì, forse lo nomina, però questa cosa dei 30 words mi è venuta in mente, perché l'ho sempre vista su Instagram, moltissime persone ne parlano. Io non ci ho mai fatto, effettivamente, in caso non ho mai iniziato questa challenge del vediamo se l'abbiamo indossata 30 volte, però mi ha fatto ricordare tanto perché ieri sono stata in un thrift store per fare un giro e ho visto che c'erano tantissimi, tantissimi vestiti da cerimonia, vestiti che mette soltamente i matrimoni, magari vestiti per i ballo, perché qua in Canada quando finisci il liceo c'è il ballo scolastico, il ballo it's a big deal, cioè quelle cose che vedete nei film americani stessa cosa succede anche in Canada, quindi la gente arriva a spendere anche migliaia di dollari per un vestito che metteranno una volta. Lo so che è la stessa cosa di vestiti da sposa, ma diciamo che il vestito da sposa ha già più senso perché ti stai sposando, c'è una festa, tu sei al centro dell'attenzione, cioè è un po' diverso, che poi per carità si possono comunque comprare usati, si possono comprare di seconda mano, si possono anche affittare perché ci sono delle cose così. Per esempio in Moldavia, lì siamo tutti, cioè sono molto modaioli lì, cioè la moda è molto importante, c'è l'aspetto esteriore molto importante, molto superficiale quel popolo. Però abbiamo tantissimi negozi dove tu affitti le cose, che siano vestiti da sposa, che siano vestiti da cerimonia, e io trovo che sia una cosa geniale e questa cosa esiste da anni, adesso qualcuno ne inizia a parlare e pensano che siano tipo la trovata del secolo quando in Moldavia esiste dall'alba dei tempi, e secondo me dovrebbero aumentare questa cosa del affittare i vestiti, soprattutto quando si tratta di eventi grandi come matrimoni, anche lauree, anche qualsiasi cosa, quando vuoi magari essere più pomposa però non hai voglia di comprare quel vestito perché dirai quando lo metterò? Purtroppo queste domande non se le pongono tutti, nel senso che tu compri questo vestito, lo avrai a matrimonio e poi dici vabbè cazzo mene dopo, cioè non lo metto più, lo do via, lo vendo e tutto quel che c'è. E secondo me è molto sbagliato, dovremmo toglierci un po' da questa mentalità che per ogni nuova occasione abbiamo sempre bisogno di una cosa nuova. Per esempio mia mamma è andata una volta, cioè circa dieci anni fa abbiamo avuto tantissimi matrimoni, nel giro di due mesi abbiamo fatto una cosa come sei matrimoni, e mi ricordo che mia madre quell'estate aveva indossato due vestiti a tutti i matrimoni, nel senso che per tre matrimoni ho utilizzato un vestito, per altri tre ne ho utilizzato l'altro. E mi ricordo che quei vestiti li aveva presi proprio per quest'occasione, però ha detto li userò più volte. Mia madre ha tuttora quei vestiti e li ha messi altre volte, però quell'estate mi ricordo che alcuni delle sue amiche hanno detto vabbè ma hai già messo questo vestito all'altro matrimonio, perché comunque erano tutti matrimoni familiari, quindi c'erano quasi sempre le stesse persone, no? e mia madre ha detto scusa l'ho comprato, che devo fare? Cioè ho la lavatrice a casa, l'ho comprata, cosa me ne frega a me? Cioè scusa! E questa cosa al momento non mi ha fatto pensare più di tanto, perché anche io ho indossato più o meno lo stesso vestito a quasi tutti i matrimoni, ed erano vestiti molto semplici che potevo utilizzare anche in altre occasioni, perché ai tempi non mi piacevano troppo le cose pompose, quindi avevo semplicissimi vestiti neri o robe così, a tubino magari, perché il fisico me lo permetteva, adesso no. E niente, questa cosa mi ha fatto riflettere del fatto che alle volte siamo troppo influenzati da questa cosa, che per ogni nuova occasione ci serve una cosa nuova per forza, e quando compriamo questa cosa non ci poniamo più le domande, lo indosserò altre volte, mi servirà in altre occasioni, ha senso comprare una cosa super pomposa che non riuscirò più a indossare, ecco. Quindi bisogna un attimo uscire da questa mentalità che per forza dobbiamo fare una foto in Instagram e poi buttare via quella cosa, perché molto spesso su D-Pop ho trovato dei capi venduti che dicevano, comprato solo per fare questa foto, fine. E tu sei tipo, ok, perché l'hai fatto? Soprattutto quando si tratta di acquisti da brand fast fashion, che insomma non facciamo un favore al pianeta né ai lavoratori. Quindi non dico che nel second hand ci si deve buttare sulle cose a prescindere, però già comprare second hand è una scelta più sostenibile rispetto a comprare dai negozi fast fashion. Poi, per carità, puoi comprare una cosa super pomposa se sai che la utilizzerai e che te la terrai in armadio, che magari la utilizzerai in altre occasioni, ma se compri una cosa e la userai solo con l'occasione là e poi dirai questa non la metto più perché è lo stesso vestito che ho messo a quest'altro matrimonio, non va bene. Cioè, dobbiamo un attimo uscire da questa mentalità. Quindi secondo me ci dovrebbe puntare o su affittare, se ci sono dei posti che affittano i vestiti, affittare i vestiti da cerimonia. Farseli prestare magari, perché se avete delle amiche che hanno più o meno il vostro fisico, che hanno dei vestiti che possono prestarvi, si fidano a prestarvi i vestiti, fatevi prestare i vestiti. Oppure, se comprate una cosa, avete per forza bisogno di comprare questa cosa perché capisco che in occasioni tipo la laurea, andare in matrimonio della migliore amica è importante che facciate la vostra bella figura, però anche comprare usato si possono trovare vestiti belli e se proprio non riuscite a trovare niente di usato e lo volete comprare nuovo, pensate bene a scegliere un modello che potete utilizzare nel tempo perché se ci prendiamo un vestito super pomposo, molto principesco, che metteremo una volta, cioè sì, molto bello per il matrimonio, ma poi cosa ve ne fate di quel vestito? È stato uno spreco di soldi, prima di tutto, uno spreco di risorse e non arriverete assolutamente a indossarlo 30 volte. Allora, io tre anni fa ho comprato questo vestito da Zara, non ero ancora nella sostenibilità e tutto, ma si stava per sposare la sorella di lui. Giustamente era un matrimonio di famiglia, il primissimo matrimonio in famiglia, bla bla bla, e volevo comunque fare bella figura. Però mi ricordo che cercando il vestito ho detto però non voglio neanche prendere un vestito che userò solo una volta, non ero ancora nella mentalità, oddio, aspetta, devo prendere e fare una scelta saggia. E mi sono trovata a comprare questo vestito, ve lo faccio vedere qua, che in realtà è bellissimo, però è vero che è un vestito che se io vado in giro adesso, tutti mi ricorderanno perché è un vestito semplice, però dietro sei tutta scoperta, c'ha tutti i sbrilluccini, quindi al sole sbrillucica come non so cosa, e c'ha il super cosciotto fuori e tutto quanto, perché è bellissimo ma sicuramente non posso andare a fare la spesa con questo vestito. Allo stesso tempo è un vestito così basic, ma allo stesso tempo così bello, che ho detto lo userò per altri matrimoni. Se per esempio dovrò andare a un altro matrimonio prossimamente, farà caldo e posso indossarlo, sicuramente questa sarà la mia prima scelta. Se invece dovrò comprare qualcos'altro, mi butterò sull'usato poco ma sicuro, ma mi butterò anche su un vestito che potrò usare per altre occasioni, che non sia solo limitato al matrimonio. Questa cosa dei 30, se abbiamo indossato 30 volte i nostri capi, io sono sicura che nonostante io abbia certi capi da anni e anni, non l'ho indossato 30 volte. Forse uno dei vestiti che ho indossato 30 volte poco ma sicuro è il mio vestito, quello che ho da 10 anni, perché è un vestito estivo che metto spessissimo, che adesso l'ho portato a modificare, non ho ancora le modifiche, ma appena ce l'avrò vi farò vedere tutto ciò che ho modificato. Quello forse è l'unico che ho indossato veramente 30 volte, e ancora molte più volte di 30, però tantissime cose che ho nel mio armadio, vabbè che alcune sono state comprate negli ultimi due anni magari, quindi dall'usato e tutto quanto, non li ho indossate 30 volte, perché ci saranno sempre dei vestiti che a prima cosa prenderai e lo metterai sempre perché ti piace tanto, e altri che terrai lì perché magari non si abbina proprio, non sei nel mood di metterlo, eccetera, eccetera. Quindi quello che volevo dire con questo video, dopo il mio ambarabacicicocò, è veramente di pensare bene prima di comprare qualcosa. Le domande che ci dovremmo porre, prima di fare il qualsiasi acquisto, non solo quando si tratta di un'occasione speciale, ma un qualsiasi acquisto è lo indosserò 30 volte, va bene con le cose che ho in armadio, mi piace lo stile, questo stile mi piacerà ancora, se c'è magari un pattern, mi piacerà questo pattern prossimamente. Io per esempio adesso posso dire che non ho quasi niente che abbia motivi floreali, o comunque niente di pesante, cioè ho magari qualche vestitino con qualche fiorellino, ma niente di pesante che dici oh mio Dio mi stuferò, cioè alla vista mi stuferò. Moltissime delle mie camicie sono bianche, quindi molto basic, vanno bene con qualsiasi cosa. E un'altra cosa alla quale io dirò di stare attenzione sono i materiali, perché ci sono dei materiali che uno non durerà nel tempo, si rovineranno più facilmente, e parliamo sempre della questione ambientale, microplastiche e tutte queste cose qua. Quindi prima di fare un acquisto pensiamoci bene, soprattutto quando si tratta di quegli acquisti che facciamo d'impulso, perché la cosa ci piace, tra poco oltretutto ci sono i saldi, quindi appena iniziano i saldi si va fuori di testa, perché le cose costano poco, e quindi sì, come dico sempre, non stiamo qua a dare la colpa a persone che comprano due volte da fast fashion, che comprano quelle tre magliette ogni 50 anni, parliamo anche di persone che sponsorizzano queste cose, che fanno vedere solo i haul di vestiti che fanno, poi quei vestiti non li vedi più, secondo me manco li indossano, ma comprano queste cose solo per fare haul, quindi per fare hype, per far vedere quante cose possiedono, quante cose hanno comprato, perché sicuramente sono dei contenuti frivoli, ma che la gente guarda, perché anche io guardo contenuti del genere, cioè guardo più che altro i thrift haul, nel senso la gente che compra ha usato e fa vedere le cose che ha comprato, perché sì, sono contenuti belli, ma allo stesso tempo quando inizi a pensare che una persona fa un haul ogni settimana, lì non va bene, cioè non va bene che si compri 50 capi a settimana, non riuscirai mai a indossare quei capi così tante volte, quindi questa cosa dell'indossare un capo 30 volte mi ha fatto riflettere molto di più ultimamente, proprio andando anche nel thrift store, vedendo certi capi e dicendo, ma dove metti questa cosa, se non a un matrimonio, se non a un battesimo, o un'occasione insomma più pomposa, no? Capisco che, cioè ovviamente la cosa è anche che sono le donne, perché un uomo si compra un completo ed è a posto per tutta la sua cazzo di vita, le donne, cioè il vestito, il gondellina, il completo, il scarpe col tacco, il scarpe col tacco basso, cioè tutte queste cose qua, sempre noi, sempre noi, poi ovviamente, magari ci sono anche gli uomini che si comprano un completo per ogni occasione, non sto dicendo questo, però è sempre quasi tipo, siamo sempre quasi noi che non possiamo ripetere gli outfit, questa cosa che gli uomini possono indossare lo stesso cazzo di smoking da ogni occasione che hanno, non te ne accorcerai mai se è lo stesso o meno, ma le donne se indossano lo stesso capo in più occasioni diverse, è la fine del mondo. Ovviamente questa è una cosa, una problematica che mi ha avuto con Instagram, con tutte le cose che, c'è quasi la vergogna di indossare lo stesso capo per più foto, perché, oh mio Dio, basta ho messo la foto su Instagram, non va bene, un po' come i costumi da bagno, ogni estate ne devi avere di nuovi, perché c'è Instagram, cioè non puoi mettere lo stesso costume d'estate scorsa, e no, non va bene. Niente, quindi, fatemi sapere se sapevate di questa regola, di questa cosa, se voi la applicate, se quando comprate una cosa vi fate più domande, quali sono le domande che vi spingono a comprare un capo, e quali sono quelle che vi dicono, no, aspetta, forse non ne hai bisogno. Fatemi sapere nei commenti, noi ci vediamo la prossima volta, ciao!